Nel paese più piccolo d'Italia non mancano i maleducati. Bamo Natale ha lasciato una brutta sorpresa a Morterone, comune di 31 abitanti, all'ombra del resegone. Qualcuno ha riempito di macerie un cassonetto lungo la strada che sale da Ballabio. È cartongesso, spiega il sindaco Antonella e Invernizi, qualche resta di un lavoretto domestico. Non si tratta di rifiuti pericolosi, ma non è questo il punto. Le macerie sono probabilmente di qualche residente, è difficile che qualcuno si spinga per chilometri sui tornanti che salgono da Ballabio per buttare materiale che viene ritirato gratuitamente in qualsiasi piazzola ecologica. Il primo cittadino ha denunciato l'accaduto pubblicando le foto dello sgredito regalo sul proprio profilo Facebook. Quando accadono queste cose, continua, cadono letteralmente le braccia. Per ragioni evidenti non abbiamo un'area di smaltimento al pari degli altri comuni più grandi. Come specificato più volte a voce ai residenti, per problemi di questo genere, basta contattare me o qualche altro amministratore, una soluzione si può trovare. L'ho anche scritto sulla bacheca comunale, ma evidentemente non è servito. Il danno ha poi un altro risvolto. Quel cassonetto, conclude il sindaco, non può essere svuotato con i mezzi perché non si può sollevare. Chiederò Sirea di intervenire, ma ci sarà chi sarà costretto a togliere quelle macerie con secchio paletta. Una doppia fatica che testimonia la stupidità di un gesto che costerà caro a tutta una piccola comunità.